E per il banchetto della vigilia ci affidiamo allo chef, un noto chef di Silvi Paese, Alex Ferretti. Siamo venuti a trovarlo qui nella sua taverna Ferretti a Silvi Alta, una prospettiva davvero mozzafiato, con la maiella innevata e sotto, complice questo sole, c'è il gran panorama di Silvi Marina. Ma partiamo di cose serie, anzi, innanzitutto hai preparato tre piatti per questo banchetto della vigilia. Iniziamo con l'antipasto. Allora, abbiamo cominciato un antipasto, abbiamo proprio fatto dei piatti tipici del baccalà arrostito con i peperoni arrosto, del baccalà pastellato e fritto, con un contorno di verdura, una verza che si fa soffocata, proprio tipico della vigilia. Ti sei affidato alla tradizione culinaria, la cucina abruzzese, la cucina povera, tra virgolette. Povera, proprio quello che si mangiava una volta e manca qualcosina, proprio perché oggi non si mangia tutto come si mangiava una volta, però abbiamo rivisitato bene la tradizione con questi tre piatti. Andiamo al primo, un primo che è una tua specialità, questa linguina. Sì, queste sono delle linguine, sempre classico, con sugo di baccalà. Oggi è il baccalà, diciamo, che fa da padrone, è una vigilia di Natale. Quindi abbiamo questo primo, è una linguina, classica linguina, con sugo, pomodoro e baccalà. Naturalmente la ricetta è tua, è segreta, ma è complicato preparare questo piatto? No, non è complicato, è semplice, anche perché diciamo che è un piatto proprio tipico, tradizionale, che in tutte le case, oggi in tutte le famiglie del posto, del paese, almeno penso di questa zona, si prepara oggi. E per guardire delle foglie di prezzetto? Sì, molto semplice, è giusto per dare un po' di colore. E siamo al secondo, è qui un'apoteosi. Sì, questi sono dei fagioli tondini, vengono preparati così semplicemente cucinati, poi conditi con alici salate, che è sempre che facciamo noi, sotto sale poi di salate fritte, con peperone secco che è molto usato da noi, anche specialmente in inverno, che diciamo ne fa da padrone nei nostri piatti. Con cosa accompagniamo questi piatti? Che vino? Vino rosso, Montepulciano d'Abruzzo, sicuramente noi abbiamo sempre la nostra piccola cantina qui, che ci aiuta, ma ci aiuta sempre bene, con un bel Montepulciano d'Abruzzo possiamo fare tutto pasto. Piatto leggero, sì. E insomma.